Un Parma che forse è caduto nella trappola del nervosismo, due espulsi, l'arbitraggio, non so, li commenti gli arbitraggi? No, non commento gli arbitraggi perché non è il mio modo di vedere, c'è un'amarezza che si è accaduto in quella trappola che hai detto te, pur essendo stati avvisati perché chiaramente il Castelfranco ha cercato quei limiti che avevano anche di lavorare in questa maniera qui e noi ci siamo caduti, questo è un errore grave che non dobbiamo commettere perché non troveremo soltanto il Castelfranco ma l'abbiamo già sperimentato prima e lo sperimentiamo ancora. A parte questo però la squadra ha espresso il gioco, soprattutto nella seconda parte, abbiamo cercato più volte il gol, non ci siamo arresi, anche pur in nove avremmo attaccare. Questa generosità mi fa molto piacere, è chiaro che c'è l'amarezza, ripeto, mi hanno detto che è un gol annullato, non so se è rigore o non rigore, però comunque sono abbastanza soddisfatto della prestazione. Allora ti dico io, il gol era buono nel primo tempo, quello di Guazzo, molti dubbi, vabbè l'infortunio di Longobardi probabilmente meritava più di una punizione, non so, voglio tirarti a giudicare. Vedi, quello che posso dire è che chiediamo più tutela, ecco, perché comunque non è che sono cieco, visto anch'io che ci sono state delle manifestazioni in campo, secondo me non eque, però vabbè se l'arbero ha visto così, questo è il suo punto di vista, bisogna, ecco, la cosa importante che ho detto sempre a squadra, troveremo arbitri del genere che non possiamo lasciarci condizionare da questa, perché poi diventa anche un alibi, io non voglio cadere negli alibi. Dobbiamo continuare, adesso voltiamo pagina e in nostra mente deve essere proiettata sulla gara prossima che abbiamo in casa. Senti, c'è il rischio in generale, non sto parlando dell'arbitraggio di oggi, che gli arbitri abbiano un po' di subitanza psicologica al contrario, cioè che dicano abbiamo paura di favorire il grande parma e poi succedono cose come quelle di oggi. Non lo so, ti posso rispondere perché è una domanda che andrebbe fatta direttamente a loro, noi dobbiamo prepararci per farle le gare, per cercare di non cadere in quelle trappole, come ho detto all'inizio, che fanno parte un po' del gioco del calcio, perché comunque quando una squadra non riesce a fare determinate cose magari si aggrappa ad altre. Io ripeto, la prestazione c'è stata, l'impegno anche, anche se il rischio di nella prima parte non siamo riusciti a sviluppare bene alcune giocate, nella seconda parte molto molto meglio, volevamo vincere e abbiamo provato a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Hai scelto, tra virgolette, l'esperienza a centro campo e non in attacco, come forse si pensava. Ma in base all'elemento di ieri ho visto alcune cose che ho preferito mettere delle certezze che avevo dei dubbi, non avevo qualche dubbio, quindi ho preferito tornare nelle certezze, anche se comunque io non è che chiudo le porte a nessuno, nel senso che ho dei giocatori bravi che se entrano io uso dei parametri per valutare chi gioca e chi non gioca, dall'impegno chiaramente, a quello che danno in campo, a come si adattano al gioco che chiedo io, quindi diversi parametri e come si integrano con la squadra. E questi sono parametri importanti e io, ripeto, quando uno si allinea su questi miei parametri poi chiaramente gioca. Ultima domanda da parte mia. Adesso ci sarà un problema mercoledì con Legnago, perché tra infortunati e squalificati avrai fuori cinque o sei giocatori. Attingeremo anche la Juniores, ci sono anche dei ragazzi bravi nella Juniores che stanno facendo molto bene, quindi i ragazzi di Simone e Barone possono essere un valore aggiunto. Adesso recuperiamo questa gara, chiaramente proiettando le nostre energie sulla gara che dovremmo affrontare. Questo ormai non ne vale neanche la pena recriminare o stare lì a contestare, perché non ha senso, perché ormai la gara è andata, non possiamo recuperarla. Se non fanno tesoro per gli errori che abbiamo commesso. Uno su quelli, quello importante è quello di non lasciarci cadere da queste provocazioni. A proposito delle provocazioni, cosa manca a questo Palma? Io ho la sensazione che quando si cade in provocazioni come queste a volte è difficile non farlo, però lo si fa perché magari manca qualcosa, perché magari manca anche un po' di serenità. Cosa manca a questo Palma per riuscire anche ad evitare di cadere in situazioni come queste? Manca la lucidità, manca l'essere consapevoli della propria forza, ma consapevoli anche che affronteremo squadre che tenderanno anche a fare questo, perché non l'hanno fatto soltanto questa domenica, ma ci sono state anche altre gare dove le squadre avversarie tendevano a entrare decisi e a continuare a entrare decisi su ogni pallone anche quando il pallone non c'era. Questa è una tutela che io chiedo, ecco l'unica cosa che posso chiedere è tutela sui miei giocatori, il resto gli albi faranno la loro parte e noi dobbiamo fare la nostra. A proposito di tutela dei nostri giocatori, come sta Corabic? Ha preso credo una quantità di calcioni durante la gara incredibile. Era molto arrabbiato, quindi bene, penso bene, era molto arrabbiato perché non abbiamo vinto. Questo è un punto importante perché mi fa piacere, il fatto che oggi entro in uno spottoio e c'era un'amarezza, un'arrabbiatura proprio perché non abbiamo vinto. Quella degli arbitri non dobbiamo permetterci di caderci né negli argomenti, perché io negli elementi che faccio a volte non fischio punizione apposta, proprio abituarli perché so che capiterà come è capitato oggi, che troviamo delle cose che non vanno bene, che magari sono evidenti, sono lampanti, non c'è giustizia però chiaramente questo fa parte del ruolo perché comandano loro e dobbiamo essere bravi a non perdere energie che non ci servono. Finché abbiamo contenuto le nostre energie, le abbiamo sviluppate per il gioco, abbiamo fatto bene. Poi siamo caduti purtroppo in questa situazione qui e abbiamo calato, abbiamo calato concentrazione e siamo caduti nella loro trappola. Si può pensare che questa gara rovini un po' i piani, non dico tattici, però insomma da qualche tempo a questa parte stai provando molto le due punte un po' più pesanti, quindi magari Guazzo e Musetti, in questo caso Musetti e Longobardi, poi è entrato Guazzo al posto di Longobardi, ora Longobardi infortunato, Guazzo espulso, per carità si può provare anche altri giocatori come prime punte, però diciamo che è un po' anche uno stop in questa sorta di trasformazione che magari stavi cercando di dare alla squadra. In base alle gare che vedo, in base alle squadre che affrontiamo, è chiaro che ci sono giocatori più adatti a certi tipi di partite, infatti oggi io penso che sia Longobardi che era dato come lo stesso Guazzo che per il mio ha fatto una buona gara, purtroppo ha sbagliato, ha sbagliato appieno a cadere nella provocazione, però queste sono alternative che proverò sicuramente, come proverò altre alternative perché la squadra comunque anche senza forza fisica ha giocato, ha anche fatto vedere alcune giocate positive. Grazie.